di accompagnarmi, di condividere, di rispettare l'automia, di prendere anche lezioni dai ragazzi, dagli studenti, dai centri sociali e li rispetto. Lettieri sappiamo che cinque anni fa si accompagnò a Nicola Cosentino e ha scelto un accompagnatore che ben conosciamo, poi il destino che ha avuto. In questa campagna elettorale si è accompagnato a Desiano che l'ha accompagnato da Berlusconi e abbiamo visto che Desiano per fatti di Camorra si è salvato solo per l'immunità parlamentare. preferisco stare rispettando l'autonomia un po' più vicino ai centri sociali e un po' meno vicino a Nicola Cosentino e a Desiano. Ognuno si sceglie le compagnie che decide nella propria vita.